ciao ragazzi oggi abbiamo sul nostro ormai famoso banco il nuovo turbo charge di adidas andiamo a vedere un grande mister che consigli ci ha dato sulla scelta della scarpa mister ma che sta per metto? quella verde ah allora questa è di quadrato questa la usa piange dipende da che giocatore sei questa se devi correre veloce è giusta questa se invece sei uno tecnico va bene falla di Pjanic non mi fai giocare? è certo che faccio giocare faccio anche un attacco non ho questo attaccato ci assomiglia abbiamo sentito mister allegri i suoi consigli quindi andiamo a vedere la prima scarpa la ace quindi la calzatura indossata da Pjanic una scarpa creata per chi deve creare gioco per chi vuole avere il massimo del controllo sulla partita e sul pallone stesso touch fenomenale versione FG in questo caso boost che rilascia energia in colorazione abbiamo detto verde fluo turbo charge scarca di energia in campo al vostro servizio naturalmente vedete la scritta pure control sul retro il marchio adidas che va poi a richiamare anche gli altri silos quindi messi e copa la scarpa creata per giocatori veloci per giocatori rapidi come appunto quadrado è la X pur chaos in versione sempre P0 quindi con stringa in questo caso coperta tech fit è molto elastico che andrà a coprire e a dare maggiore fit possibile appunto al vostro piede e in colorazione verde fluo quindi il bicolore che va a sfumare tacchettatura FG messi la scarpa creata per il giocatore l'unico della squadra il numero 10 che deve inventare le giocate e cambiare le partite anch'essa appunto in tech fit possibilità di averla in versione P0 in versione FG creata per i giocatori rapidi che devono fare cambi di direzione negli ultimi 20 25 metri del campo vediamo la versione invece di copa all'interno del nuovo pack di adidas una scarpa classica è una copa 17 nero pelle di canguro questa è la versione appunto top di gamma la 17.1 con simbolo di adidas che va a richiamare sia messi che poi le finiture le finiture di ace qui abbiamo il massimo comfort una scarpa che va a sformarsi ad adagiarsi a cullare il vostro piede per chi ama la scarpa classica in pelle naturalmente a fianco del nostro pack FG quindi di scarpa calcio per terreni duri abbiamo sempre in uscita anche la calcetto pur tango in versione TF quindi per i campi outdoor sempre in versione P0 quindi senza lacci poi disponibile per chi ama la scarpa classica quella con laccio la X stessa cosa anche essa che va ad accomodarsi nel nostro pack ultima ma non per fascino e bellezza la versione TR che cambia colore diventa molto elegante con questo grigio e il verde fluo che va a richiamare tutte le finiture del pack abbiamo visto il adidas football turbo charge non resta che andare su calcio shop in base alle proprie caratteristiche scegliere la scarpa ricordo che poi saranno i vostri piedi la vostra tecnica a far la differenza ma una buona scarpa può aiutare scegliete la scarpa che va ad essere migliore in base alle vostre caratteristiche ricordate di iscrivervi sul nostro canale YouTube e rimanere collegati sempre e solo su calcio shop.it ma faccio portiere? ma bella che buffo magari ma più gonzato è più gonzato